Poi uno dice che non si trova in uno stato assurdo se non di polizia. Oggi, a proposito di polizia, il capo della polizia si è presentato e ha detto che verrà fatto un quinto, sentite bene, un quinto in un mese modulo di autocertificazione per poter uscire di casa. Cosa che non mi riguarda, io sono positivo, non posso uscire di casa, ovviamente. Il punto fondamentale è che il quinto modulo di autocertificazione non viene annunciato dal Presidente del Consiglio, che va sempre in televisione, ma dal capo della polizia, perché ovviamente noi siamo in arresti domiciliari e il modo per cui questi arresti domiciliari debbono essere controllati ovviamente è una questione di polizia. Però questo è un dettaglio rispetto a un aspetto per la quale tu capisci che questo è un paese morto. Lo dico con grandissima tranquillità, perché basta leggere questo modulo di autocertificazione, il quarto e il quinto, spero sia diverso, ma non ci scommetto. Tra l'altro il capo della polizia si presenta e dice che arriva il quinto modulo e in realtà non ce l'ha in mano, perché ci sono stuoli di persone, di avvocati, di consigli di Stato che stanno ovviamente studiando cosa scrivere e vi dico quello che hanno scritto nel precedente e cioè che dichiara sotto la propria responsabilità, il nome, cognome, tutto quello che c'è scritto, di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dell'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento. Voi pensate che qualcuno di noi possa conoscere questi tre articoli? Noi ci stiamo prendendo per i fondelli, noi siamo un paese morto in cui ci autocertifichiamo rimandando a tre articoli che nessuno di noi conosce. Terza cosa, ve la leggo, oltre a dichiarare di non essere positivi al Covip, io voglio sapere chi può dimostrare di non essere positivo al Covip, posto che i tamponi non si fanno, ma lasciamo perdere, diciamo che io sono uno di quelli, ma sono uno dei pochi. Diciamo il terzo elemento, cosa rischiamo? di essere a conoscenza, noi dichiariamo di essere a conoscenza delle sanzioni previste nel combinato disposto dell'articolo 3,4 del decreto legge 23 febbraio 2020, numero 6, e dell'articolo 4,2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in caso di nottemperanza dei pretenti misure di contenimento. Cioè, qua ci sono sei decreti, sei rimandi, otto articoli che noi dobbiamo, sotto la nostra responsabilità, firmare per poter uscire di casa. Perché mi viene da ridere, mi viene da piangere? Perché questa è la DDR, questo è Orwell, questo è il peggio che noi potevamo immaginare. Cinque diversi autocertificazioni, la quinta viene presentata senza che neanche ce l'abbia in mano dal capo della polizia e i termini che sono scritti in queste certificazioni non si arrabbiassero i sindacati della polizia o della polizia municipale, quando io gli dico ragazzi, cercate di essere un po' indulgenti, perché le persone che escono, e lo dico anche con grande rispetto a Gabrielli, non sono tutti dei delinquenti, anzi, noi siamo stati trattati di occupamenti delinquenti, quindi le forze dell'ordine potrebbero dire mi spiace di queste gravi misure che ci sono, lei mi faccia vedere la sua autocertificazione. Questa è un'autocertificazione che dimostra che questo paese è morto, che le nostre imprese non ce la potranno fare a lavorare con questi qui, che i nostri partite IVA quando andranno all'Inps avranno sempre un cazzone che si inventerà l'articolo del comma e del combinato disposto, non bastava scrivere, voi io mi autocertifico di non avere il Covid, di non essere in quarantena e so perfettamente di rischiare un anno di galera, tre anni di galera, sei mesi di galera, quello che è, ce lo spiegassero loro, anche perché nessuno riesce a capire quello che si rischia. Questa roba qua è il segno di un'Italia che non ce la può fare purtroppo.